La tecnica è sempre la stessa. Avvicinano una persona su con gli anni, fingendo di conoscerla, fanno riferimenti a fantomatiche amicizie comuni e poi abbracciano calorosamente la vittima prescelta. Di fronte a tanta gentilezza e affetto, difficilmente malcapitato riesce a percepire l'inganno. Si accorge solo quando ormai è troppo tardi, ritrovandosi senza collana, orologio o altri oggetti di valore. Questa scena si è ripetuta in pieno centro a Mondolfo. Una signora di 62 anni, con un bel collier d'oro al collo, è stata presa di mira da una banda di ladri. Una donna si è avvicinata, ha ripetuto il solito copione e alla fine l'ha abbracciata. La 62enne però si è resa conto che l'era stata sfilata la collana e ha regito urlando e cercando di rientrare in possesso del prezioso. Ma ad aiutare la truffatrice è accorsa una complice che ha afferrato il monile e ha spintonato la signora per poi darsi alla fuga. Sono salite a bordo di una BMW, parcheggiata lì vicino con motore acceso, dove un uomo al volante le stava aspettando. Al tempo stesso le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di una persona che si è affacciata alla finestra di casa e assistito alla scena. Il testimone ha chiamato il 112 e ha fornito al carabinieri una prima descrizione del mezzo. Sono scattate le ricerche da parte dei militari di Mondolfo che hanno chiesto la collaborazione delle forze di polizia. Circondata la zona, lungo la strada cesanense e in direzione mare, i carabinieri hanno incrociato l'auto sospetta mentre superava i veicoli fermi per il semaforo rosso. E per sbarrare la strada i fuggitivi hanno messo la pattuglia di traverso e armi in pugno hanno bloccato la BMW. In seguito sono giunti in supporto i carabinieri di Monteporzio e i vigili urbani di Mondolfo. All'interno le due donne erano ancora in tenta a cambiarsi d'abito per eludere eventuali riconoscimenti. Fatti scendere i tre dall'auto per essere perquisiti, la sorpresa, una donna era incinta mentre l'altra aveva con sé il figlio di sei anni. Condotti in caserma sono stati riconosciuti dalla vittima. L'uomo che era al volante ha 24 anni ed è nato in Germania mentre le due giovani, entrambe 22 anni, sono di origine romene. Tutti e tre in Italia senza fissa dimora, provengono dai campi Roma di Ancona o di San Casciano in Val di Pesa. Solo 15 giorni prima erano stati deferiti in stato di libertà a Ferrara per fatti analoghi. Il terzetto che è stato arrestato per rapina, avendo usato violenza, è stato portato in carcere a Pesaro in attesa del giudizio di convalida. Il bambino invece è stato affidato ai servizi sociali del comune di Mondolfo.